L'Europa può avere e ha tanti problemi, però penso che tutti noi che facciamo parte dell'Europa e non soltanto della comunità europea non abbiamo la soluzione migliore della Unione Europea. Penso che questo è un progetto valido, però un progetto come tutti i progetti validi che richiede impegno di tutti, non è una cassa da dove si prende e nessuno investe, allora penso che l'Europa vista e capita come comunità dei popoli e della gente penso che è un progetto molto valido e che bisognerebbe veramente impegnarsi. Noi lo forse apprezziamo di più perché non lo abbiamo, non siamo parte della comunità europea che quelli che sono, è così sempre, quando uno ha una realtà non la apprezza come lo dovrebbe e noi sentiamo che stare e far parte della comunità europea è un pregio e bisognerebbe far tutto per non perdere questa bella occasione di creare finalmente un continente europeo senza tensioni, senza le guerre, noi lo sappiamo bene cosa vuol dire vivere senza la pace, senza la giustizia, come obiettivo e quello mi sembra che è uno degli obiettivi dell'Europa Unita, speriamo che riesca a realizzarsi in pieno.